Tutto partiva da un discorso identitario come viene chiamato, queste persone sono vicine al cosiddetto white power e queste persone hanno fatto delle regole anche per stare nel loro forum, è fatto di vieto di elogiare il popolo ebraico, è fatto di vieto di elogiare il meticciato, è fatto di vieto di elogiare gli immigrati, quindi non è che poi servisse tanto un'occasione per esprimere queste cose. Il sito è una costola di un sito che si trova negli Stati Uniti, poi per quanto riguarda le singole persone e i singoli messaggi venivano fatti moltissimi commenti anche per quello che succedeva nel nostro paese, l'interesse però primario era qui per l'Italia, per il commento dei commenti.